La cronaca nazionale ci racconta di diversi episodi di questo tenore, ma ora questi atteggiamenti estremi sono approdati anche nel biellese. Una barista nei giorni scorsi è stata aggredita verbalmente da una cliente no pass. La signora ha espresso un forte dissenso a fronte della normativa che impone di essere in possesso del green pass rafforzato per poter consumare sia all'interno che all'esterno dei locali pubblici. La dipendente di un bar cittadino è stata offesa dalla donna per averle chiesto il certificato vaccinale, come previsto dalle attuali norme emergenziali. È successo martedì scorso verso le 9.30 di mattina. La donna, di circa 60 anni di età, è entrata nel locale per consumare. Quando ha ordinato il caffè, la barista le ha chiesto di mostrare il cosiddetto certificato. A quel punto la signora ha iniziato a inveire pretendendo di poter prendere il caffè almeno all'esterno nel Deor. Quando la commerciante le ha spiegato che anche per poter consumare all'aperto è necessario il green pass, i toni si sono accesi, tanto da chiedere il supporto delle forze dell'ordine.